L'epilatore a luce pulsata è un dispositivo sempre più gettonato per la rimozione semipermanente e indolore dei peli. Ma come si usa correttamente? Oggi lo scopriamo insieme. Ci sono innanzitutto alcune operazioni da compiere sempre prima del trattamento. Allora, bisogna radere la zona a trattare perché i peli non devono superare la lunghezza di un millimetro, altrimenti l'impulso luminoso andrà a bruciare gli esternamenti senza essere veramente efficace sul bulbo pilifero. In secondo luogo bisogna utilizzare una matita bianca per coprire nei oppure macchie della pelle e infine è necessario effettuare sempre un piccolo test per capire la tolerabilità dell'epidermide all'impulso luminoso e per essere sicuri che sia tutto in ordine. Per i dispositivi ad uso domestico non è necessario usare del gel freddo così come non si rende necessario l'utilizzo degli occhialini. Tuttavia alcuni produttori li includono già nella confezione oppure si possono facilmente acquistare separatamente. Adesso inizia la parte vera e propria del trattamento. Come prima cosa bisogna selezionare il livello di energia. Nel libretto di istruzione di ogni impilatore a luce pulsata è sempre indicato quale sia il livello di energia consigliato in base al fototipo posseduto e al colore dei peli da rimuovere. Dopodiché bisogna scegliere il tipo di flash da regare. Molti epilatori infatti consentono di scegliere fra due modalità di emissione dell'impulso. La prima è a flash continuo ovvero gli impulsi emanati continuamente. È una modalità indicata molto comoda quando si vogliono trattare magari velocemente zone più estese come le gambe, le cosce o altre zone del corpo. La seconda modalità invece è quella flash singolo con cui invece l'impulso è che è utile invece per trattare zone di maggiore precisione. A questo punto bisogna posizionare in maniera corretta l'apparecchio e bisogna creare un perfetto contatto fra la testina e l'epidermine altrimenti l'epilatore non funzionerà perché per motivi di sicurezza non emette impulsi se non completamente adiacente alla pelle. In questo caso vediamo ad esempio che se l'epilatore non è perfettamente adiacente alla pelle la luce non si accende di verde, la luce posizionata al di sopra dell'epilatore non si accende e anche provando a sparare l'impulso non succede niente. A questo punto tenendo premuto il pulsante è possibile scorrere lungo la zona da trattare. Vedete che l'epilatore manda automaticamente impulsi continui e per aiutarsi si possono disegnare delle linee guida sulla pelle per regolarvi su quale sia l'area da trattare in modo da non ripassare più volte negli stessi punti. A seconda della zona che si vuole trattare bisogna ricordarsi di scegliere la giusta finestra. Infatti qualora foste in possesso di un epilatore dalle finestre variabili si può selezionare l'accessorio con la superficie più adatta alla zona che volete andare a trattare per cui magari una finestra più ampia se vogliono trattare gambe o braccia e una finestra più piccola per trattare zone più piccole del corpo. Mi raccomando stabilite un calendario e rispettatelo. Dovete indicare quando inizierete le sedute di epilazione luce pulsata e rispettare le tempistiche indicate l'istruzione del prodotto. Solitamente c'è bisogno di effettuare le prime 4-5 sedute distanzando le due settimane e poi si può procedere effettuando una seduta al mese per i successivi 3-4 mesi. A quel punto si possono iniziare delle sedute di mantenimento finché non si ottengono i risultati desiderati. In genere i primi risultati saranno visibili dopo circa 2-3 sedute dall'inizio del trattamento. In conclusione possiamo dire che l'utilizzo dell'epilatore a luce pulsata è molto semplice però non si improvvisa e bisogna seguire sempre le indicazioni fornite dai produttori sia per quanto riguarda la frequenza da utilizzare che per la sicurezza. Se volete saperne di più sull'epilatore a luce pulsata potete consultare la nostra rubrica oppure leggere la nostra guida all'acquisto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!